Mettiti comodo perché stai per scoprire 4 modi interessanti per aumentare il livello del tuo brand attraverso i video UGC. I video UGC sono contenuti creati dagli utenti stessi e offrono un vantaggio unico, cioè l'autenticità. Immagina un cliente entusiasta a condividere il proprio video dopo aver utilizzato il tuo prodotto o servizio. Questo tipo di contenuto genuino coinvolge il pubblico in modo più profondo, trasformando i clienti in veri e propri sostenitori del tuo brand. Bene, iniziamo. Punto numero 1. La creazione di una comunità virtuale. Supponi di lanciare una challenge video tra i tuoi clienti, invitandoli a mostrare come utilizzano i tuoi prodotti nella vita quotidiana. Vedrai nascere piano piano una comunità online animata, condividendo esperienze e suggerimenti. Questo crea un legame tra i consumatori e il tuo brand, stimolando appunto l'interazione. Punto numero 2. Testimonianze credibili. Pensa a un cliente entusiasta che condivide un tutorial dettagliato su come utilizzare al meglio il tuo prodotto. Questo tipo di video fornisce una visione autentica e credibile, influenzando positivamente i nuovi clienti e consolidando la fiducia nella tua marca. Punto numero 3. Esplorare nuovi prodotti e servizi. Supponi di lanciare un nuovo prodotto. Chiedi ai tuoi clienti di condividere le loro prime impressioni attraverso i video. Puoi mostrare i video sul tuo sito web o sui social media, creando un buzz, cioè un'ondata di entusiasmo, attorno al lancio e suscitando l'interesse della tua audience. Punto numero 4. Generazione di contenuti in modo semplice. Immagina di lanciare una sfida creativa, in cui i tuoi clienti condividono video divertenti, creativi, che coinvolgono il tuo marchio. Puoi poi raccogliere e riutilizzare questi video per alimentare la tua strategia di marketing, creando un flusso costante di contenuti freschi e coinvolgenti. Quindi, implementare i video UGC non solo accrescerà l'engagement, ma contribuirà a costruire una community autentica e a potenziare la percezione del tuo marchio. Bene, se sei arrivato fino a qui, blocca tutto e inizia a coinvolgere i tuoi utenti per la generazione di video UGC. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao!